buongiorno scusate mi trovo a dover fare una precisazione perché si sta creando un enorme equivoco quattro anni fa io ho fatto un messaggio whatsapp dove facevo delle considerazioni sul referendum che appunto si è tenuto nel 2016 sulla proposta di riforma della costituzione del governo renzi non so se vi ricorderete bene cosa succede a questo punto che questo video sta girando in maniera virale e molti cadono nell'equivoco di considerarlo riferito a questo referendum cioè a questa proposta di riforma della costituzione che verrà votata che verrà votata in settembre che però riguarda solo ed esclusivamente il numero dei parlamentari deputati e senatori ecco pertanto volevo comunicarvi che quel video che sta girando riguardava la riforma costituzionale proposta nel 2016 che non ha nulla a che fare con questa proposta di riduzione del numero dei parlamentari che pure una riforma costituzionale ecco visto che si è creato questo equivoco approfitto dell'occasione per fare alcune considerazioni ecco come allora io non voglio suggerirvi se votare sì votare no ma vorrei suggerirvi cosa bisogna secondo me considerare per votare sì o per votare no alla riduzione del numero dei parlamentari ecco secondo questa proposta il numero dei parlamentari elettivi scenderebbe globalmente da 945 a 600 una riduzione di circa un terzo ecco cosa è giusto secondo me considerare per decidere se votare sì o no ma innanzitutto il numero dei parlamentari si può considerare eccessivo elevato in rapporto al numero dei parlamentari in altre democrazie che per dimensione demografica ed economica si possono paragonare l'italia per esempio ovviamente francia germania regno unito spagna non si può paragonare l'italia cipro lussemburgo malta ovviamente bene allora come siamo messi in classifica informatevi pure scoprirete che siamo primi in classifica il numero dei parlamentari attenzione bisogna considerare i parlamentari eletti cioè rappresentanti a livello nazionale eletti direttamente dai cittadini bene non si considera per esempio per il regno unito la camera dei lord ecco considerando i parlamentari eletti a livello nazionale direttamente dai cittadini noi siamo al primo posto superiamo di un buon terzo la germania bene se vincesse sì cioè se andasse in porto questa riforma non ci troveremmo certo all'ultimo posto ci troveremmo al terzo posto a breve distanza tra germania e regno unito ecco per cui diciamo che rientreremmo nella media considerando paesi paragonabili all'italia bene altro dato da considerare perché è giusto considerare anche questo dato specialmente con i tempi che corrono e con il paese che si impoverisce quanto costano ecco attenzione qui vi diranno ma non si può fare una comparazione tra quanto sono pagati gli italiani tedeschi francesi perché ci sono diverse voci ci sono diversi criteri diversi paesi attenzione c'è un criterio che è oggettivo c'è un criterio che oggettivo ed è questo valutare di quanto la retribuzione un parlamentare supera la retribuzione media il cittadino ecco andate scoprirete che l'italia è il primo posto con un rapporto di più di cinque volte comunque io non vi voglio dare informazioni che voi prendete per buone andate a controllare pure su internet perché abbiamo la fortuna di poter trovare tutto online alto punto da considerare è questo qualcuno sostiene che tanto più alto il numero dei rappresentanti cioè dei parlamentari nel nostro caso tanto più c'è la possibilità che l'elettore li conosca direttamente e che il rappresentante effettivamente lo rappresenti lo rappresenti autenticamente ed efficacemente a livello nazionale bene allora vi dico solo questo se nelle precedenti elezioni politiche conoscevate personalmente il candidato che avete votato visto che sono quasi mille i parlamentari italiani allora votate votate pure no perché le cose vanno bene così un'altra considerazione se vi considerate ben rappresentati efficacemente rappresentati visto che sono così tanti votate no altrimenti votate sì perché tanto vale ridurli ok non credo che ci rappresenteranno meno o meno efficacemente riducendone il numero assolutamente attenzione sto parlando di rappresentare non di far arrivare nei propri territori privilegi sussidi o favoritismi ok bene bene secondo me questi sono i tre punti da considerare ma ci sono anche dei punti da non considerare ecco ho sentito delle affermazioni anche ridicole a proposito di questo referendum che qualcuno magari si beve ho sentito un po' politico che diceva questa riforma sì va bene è stata approvata però si poteva scrivere meglio secondo voi in quanti modi si può scrivere che i parlamentari si deducono alla camera da 630 a 400 e al senato da 315 a 200 quanti modi ci sono di scrivere questa cosa eppure eppure sono abituati veramente qualcuno è abituato a raccontare l'inverosimile spudoratamente bene qualcuno sosterrà va bene ma se si riduce il numero dei parlamentari bisogna che si cambia anche il sistema elettorale altrimenti si pregiudica la rappresentatività guardate che il sistema elettorale quando lo cambia noi stanno prendendo l'abitudine di cambiarlo a ridosso di ogni elezione di ogni elezione politica quando cambia il sistema elettorale naturalmente se la maggioranza di chi ritiene che sarà svantaggiata alle elezioni approva un sistema elettorale che non le farà perdere troppo se ritiene con i sondaggi che potrà avere la meglio approverà un sistema elettorale di tipo come si dice maggioritario che favorisce chi vince e gli dà più seggi ecco per cui non raccontiamoci delle favole o meglio non facciamoci raccontare delle favole ecco un'ultima considerazione perché ho visto che già dei messaggi whatsapp stanno girando c'è qualcuno che suggerisce di votare no per fare un dispetto al governo perché il governo crollerà cadrà o anche perché così i piani dei 5 stelle no verranno sventati guardate votare sì o no una riforma costituzionale per fare dispetto a un governo o a un partito è come demolire una parte della propria casa per fare dispetto al vicino vabbè il dispetto magari lo fai però lo paghi caro e per sempre va bene grazie dell'attenzione scusate non avrei neanche fatto questo questo whatsapp ma essendosi creato quel grosso equivoco ecco anche per evitare che si facessero le azioni sulla mia salute mentale ho dovuto farlo vi saluto